In questo numero del Salus Tg. L'82% dei medici testimone di sprechi, i risultati dell'indagine tra gli iscritti a Dottor Slyfe. Dal legno una nuova dieta, gli spaghetti di cellulosa. L'Istituto Superiore di Sanità è questo il momento giusto per vaccinarsi contro l'influenza. Sono gli esami inutili, la burocrazia ed il malaffare a strozzare il Servizio Sanitario Nazionale a bruciare risorse e fondi pubblici che potrebbero invece essere destinati all'assistenza e cura dei pazienti. L'82% dei medici ha avuto esperienza diretta di queste situazioni di spreco in sanità. È il quadro che emerge dall'indagine promossa dall'ADN Cronos Salute a settembre-ottobre fra i medici e i farmacisti iscritti al canale Doctors Life. Hanno risposto 1849 soggetti, di cui il 95% medici. Sulle misure per contrastare gli sprechi, il campione si divide tra chi ritiene che la spending review ed i costi standard possano contribuire a contrastare il fenomeno e chi ritiene invece che non servano. Il 60% degli intervistati ha inoltre risposto di essere preoccupato per le misure prese dal decreto sulla proprietezza prescrittiva voluto dal ministro Lorenzin per limitare proprio gli esami più a rischio spreco. Arriva dal Giappone la pasta di cellulosa estratta dagli alberi, un aiuto per chi vuole perdere peso senza rinunciare al piacere della tavola. Il nuovo tipo di spaghetti avrebbe, secondo l'azienda Tessile che li ha inventati, solo 27 calorie per 450 grammi, contro le 1538 della stessa quantità di pasta di grano. La cellulosa estratta dagli alberi viene miscelata con un estratto vegetale della radice di cognac, molto diffusa nei paesi asiatici. È questo il momento giusto per vaccinarsi. L'influenza, si legge in una nota degli SS, è ancora al di sotto della soia epidemica e solo pochi virus sono stati isolati. Come avviene ogni anno, ci aspettiamo che la curva inizi infatti a salire nelle prossime settimane, per raggiungere un picco fra gennaio e febbraio.